Pronti? Partenza! Partenza! Andiamo, andiamo, andiamo! A febbraio su Cartunito, è di scena l'azione! RP, Robot Trains, dai, spessiamo più verso noi, verso l'incavo! Preparati a conoscere il fantastico mondo dei Robot Trains! Incredibili Trains, che grazie ai loro poteri speciali si trasformano in possenti robot! Pronti a combattere epiche battaglie e sconfiggere terribili nemici! Robot Trains, dai, spessiamo più verso noi, RP! Robot Trains, siamo invincibili se restiamo insieme! Avventura e tanta azione, nella nuova serie Robot Trains, a febbraio su Cartunito!